uno due tre quattro aspetta ne manca uno arrivo sammy ciao ragazzi oggi faremo l'unboxing dei poopsie cutie tuties e dentro possiamo trovare un giocattolo che possiamo tagliare o scoppiare uno slime e un altro giocattolo apriamolo e qui abbiamo oh il poopsie scomparso e c'è anche un catalogo vediamo che abbiamo qui i giocattoli possono essere normali rari ultra rari e super ultra rari e qui ci sono i giocattoli tars of paradise junk foodie do this under the pacific early birds toots boogie poops do this of the forest e ant fartica questi sono gli slime che possiamo trovare all'interno acqua gelatina vortice marshmallow zucchero filato e arcobaleno ragazzi seguitemi non importa cosa troverò qualcuno come te ne ho preso uno sammy dove li hai portati si un non interferire è il mio coro e dobbiamo provare sembra che sam si sia completamente dimenticato dell'unboxing vabbè so come formare un nuovo coro rimuoveremo il coperchio e tireremo fuori la busta ecco il nostro giocattolo upsi è già aperto ma chi è un unicorno così carino con un corno dorato e delle ciglia morbide e anche la lingua di fuori adesso passiamo allo slime è così difficile tirarlo fuori è bicolore date un'occhiata a questa meraviglia diamo uno sguardo più da vicino vedete dentro ci sono dei brillantini e dei fiori immagino sia uno slime vortice guardate quanto è elastico possiamo conservare lo slime in questo sacchetto in modo che non si secchi ed ecco il nostro primo membro del coro e shorty è un ultra raro con lo slime bicolore che sa di torta ok il prossimo voglio tagliarlo ragazzi state attenti quando usate qualcosa di affilato e spremeremo fuori lo slime è come zucchero filato guardate com'è arioso esci fuori su vieni fuori dai oh date un'occhiata mi ricorda davvero tanto lo zucchero filato adesso per tirare fuori il giocattolo aprirò lo sportello lo tireremo fuori wow vieni qui c'è così tanto slime qui dentro chi abbiamo? girati e vieni qui guardate com'è giallo ha un corno e delle ciglia morbide e nella sua mano c'è oh immagino sia uno slime molto realistico è poker è raro con slime verde che sa di limonata e il terzo giocattolo mi è piaciuto il fatto di tagliarlo dalla parte superiore quindi farò come faccio sempre oh wow cos'è questo? apriremo il giocattolo più tardi ed esamineremo lo slime all'acqua guardate com'è acquoso wow torniamo al giocattolo tu chi sei? vieni fuori chi è questo tipo con gli occhi azzurri e la lingua fuori? un cagnolino così dolce che odora di zucca? è rufus è normale ed è il secondo giocattolo con slime verde che profuma di zucca se o la g viene dopo la f o prima della a se mi sei così stanco su vai a riposare dovresti ammettere che non lo sai penso che Sam sia entrato nel coro ops non riesco a vedere lo slime ho dovuto tirare un po' ed eccolo che arriva eeeh l'ho preso apriamo prima il giocattolo oh abbiamo qualcuno viola e paffuto dai perché sei così triste? hai delle zampi adorabili e un becco così carino incontra i tuoi amici piccolo pinguino torneremo allo slime e lo tireremo fuori dal giocattolo è uno slime marshmallow sembra zucchero filato ma è più elastico ma quanto si allunga wow 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 accidenti date un'occhiata a tutto questo glitter è fighissimo e qui abbiamo il primo giocattolo di Anfortica è Waddle è normale con lo slime rosa che profuma di gelato ah ragazzi non vedo l'ora di aprire il quinto giocattolo che tipo di slime c'è qui? eeeh scopriamolo wow guardate è gelatinoso con alcuni pezzi colorati figo chi ha negato in questo slime? su vieni fuori ciao elefante oh sei così dolce hai delle belle zampe e le orecchie rosa e sa di mmm qualcosa di dolce ecco un altro personaggio per la nostra collezione e adesso esamineremo lo slime è così bello mi ricorda le gelatine con gli inserti rosa a forma di stella e glitter e si allunga tantissimo lo conserveremo in un luogo sicuro dove non si seccherà e questo è Peanut il primo giocattolo da junk foodie doodies con lo slime di gelatina che profuma di marmellata ed ecco è raro si o lui è stonato non so cosa fare con lui mi prenderò cura io di lui Sammy un colore così interessante e sotto è arancione apriti su ma cos'è questo? uno slime gelatina sbrighiamoci e tiriamolo fuori e... fuori! si è uno slime gelatina con un giocattolo apriamolo su che c'è qui? oh penso che sia una pecora è così dolce con questi adorabili riccioli bianchi occhi viola e un elegante vestito peloso ciao ragazzi e adesso è giunto il momento di togliere lo slime date un'occhiata a questi puntini verdi mi ricordano delle alghe o la lattuga uno slime trasparente con glitter e delle mezze lune all'interno adesso arriva la mia parte preferita ragazzi è così divertente schiacciare questo coso e questo è Carly è raro è il terzo giocattolo di questa serie con lo slime di gelatina che profuma di glassa ho vinto questi due da Sammy questo è duro e quello è più morbido quale apro? e insieme mi servirà quello verde lo aprirò io va bene grazie Sam ops non ha funzionato ok apriamo almeno un giocattolo dunque non vedo lo slime tiriamo fuori il giocattolo oh c'è uno slime che bel colore ma prima controlleremo il giocattolo dai allora chi sei? qualcuno di blu vieni fuori oh guardate ha gli artigli questo granchio è così carino e sa di qualcosa di molto interessante ecco i tuoi amici e controlliamo lo slime verde acqua oh guardate quanto è bello vieni fuori è zucchero filato vai 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 sì è così morbido è così morbido e appetitoso mmm guardate ragazzi voglio mangiarlo proprio come se fosse vero zucchero ma non posso gli slime non sono commestibili oh è il primo giocattolo della serie under the pacific e pinchers con lo slime verde acqua che profuma di mare sì o ecco qui ma sono così carini a voi piacciono? se sì dateci un pollice in su Sam ha aperto qualcosa di adorabile guardate è un piccolo mandarino con un ramo in testa e delle graziose ciglia e sì sa di mandarino un altro piccoletto per il coro poopsie e qui abbiamo uno slime vortice questi due colori sono davvero fantastici e dentro ci sono delle stelle e dei brillantini ma che bello lo slime è molto flessibile ed elastico così appetitoso mi ricorda una gomma da masticare questo è Tangy il secondo giocattolo ultra raro con lo slime vorticoso che profuma di succo al mandarino allora Sammy chi è il prossimo? questo penso che ci sia dell'acqua dentro oh è davvero liquido controlliamolo subito wow è davvero acqua questo slime vince la categoria estrazione più veloce diamo un'occhiata al giocattolo adesso vedremo chi c'è qui oh wow questo è nuovo è un fiore guardate com'è bello le mani e le gambe sembrano steli e il bocciolo mi ricorda un cappello è interessante ti metteremo vicino ai tuoi amici in questo modo non sarai solo e adesso torniamo allo slime è così freddo e acquoso è anche molto perlato vedete? oh è fantastico è il primo giocattolo di duties of the forest è Daisy è normale con lo slime ad acqua che profuma di margherite chi altro farà parte della nostra collezione? scopriamolo! wow abbiamo fatto ancora prima un bel fiore sta crescendo da questo slime guardate un altro fiore carino ma i petali sono di un colore diverso e sa di vaniglia incontra tuo fratello piccolo vediamo che tipo di slime è oh è di nuovo marshmallow ed è un fiore normale con lo slime marshmallow che profuma di vaniglia guardate è di nuovo uno slime zucchero filato questo mi ricorda i coralli è fantastico non è vero? e adesso apriamo il giocattolo oh chi è qui? è un'altra pecora la sorella dell'altra ma bianca date un'occhiata a questa bellezza da è un raro fluffy con lo slime zucchero filato che profuma di torta alle fragole oh dammi dallo a me Sammy Sam hai dimenticato che sto assemblando un coro tutto per te? certo allora prendi questo wow sono rimasti soltanto due cuties quale devo aprire per primo? penso che qui ci sia uno slime all'acqua proviamo a fare come prima e wow date un'occhiata a questo slime blu e acquoso ed è tutto perlato è bellissimo e daremo un'occhiata al giocattolo che viene con questo slime oh e Waddle il pinguino e sa di qualcosa di diverso questa volta abbiamo lo stesso pinguino ma con lo slime all'acqua che profuma di torta alle ciliegie e adesso l'ultimo cutie tutti vediamo che ci sarà wow non vedo lo slime tiriamolo fuori ed ecco che arriva lo slime viola vieni qui su slime zucchero filato date un'occhiata a questo colore prendiamolo e mettiamolo tutto insieme adoro la sua consistenza è incredibile impastiamo 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 guardate come soffice è davvero molto bello ragazzi e adesso dovremmo controllare l'ultimo membro del team oh è rosa che adorabile elefante rosa con gli occhi azzurri abbiamo tuo fratello qui questa è Ellie con lo slime viola che profuma di frullato Sio che ore sono? Sio ho capito che intendi è ora di mescolare gli slime allo slime all'acqua blu aggiungeremo un pezzo di slime gelatina verde e in cima un'intera pallina di marshmallow viola è fantastico ah lo adoro guardate cosa abbiamo uno slime viola con delle macchie verdi una combinazione di colore così figa ed è così morbido Sio voglio giocare anch'io ecco qui vado a lavarmi le mani ragazzi che ne pensate di questo video se vi è piaciuto date un pollice in su e iscrivetevi al nostro canale condividete questo video con i vostri amici ciao 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 iscriviti al nostro canale grazie a tutti grazie a tutti